Musica Ben trovati con la pagina sportiva, ci avviciniamo al grande evento di domenica e facciamo l'apertura del nostro telegiornale con una grande novità che domenica i quasi 4.500 tifosi che saranno presenti sugli spazi del comunale vedranno con lo skyline inconfondibile della città di Arezzo ad accogliere i tifosi a Maranto nel settore dell'Amaratura una nuova copertura realizzata con il contributo decisivo della fondazione Arezzo in Tour Nuovo look per la maratona del città di Arezzo che da domenica a 16 aprile accoglierà i tifosi a Maranto con questa copertura inconfondibile lo skyline a retino con i loghi del cavallino alle due estremità solo pochi giorni fa gli operai dell'assessorato ai lavori pubblici del comune di Arezzo avevano risistemato lo spazio esterno del settore maratona interdetto al pubblico da 14 anni poi a distanza di poche ore sono iniziati i lavori per la collocazione della nuova copertura grazie ai dipendenti dell'ufficio lavori pubblici e agli operai della ditta alla quale il comune ha affidato i lavori la fondazione Arezzo in Tour ha sostenuto l'operazione una sinergia tra più forze per restituire a questa porzione di stadio maggiore decoro e tornando al calcio giocato quella di domani anzi scusate di dopo domani sarà la sfida numero 14 tra Arezzo e Pianese la settima il comunale a Maranto in vantaggio nel compito degli scontri diretti vediamo il servizio arriva alla Pianese la grande avversata del Arezzo in questa stagione all'andata i bianconeri avevano 5 punti di vantaggio che si ridussero dopo il successo proprio del Arezzo a Pian Castagnaio un breve tira in molla con delle opportunità sprecate da ragazzi di Boluccelli che ha pagato anche alcune assenze nel momento clou della stagione da tenere a bada Rinaldini e Couco 21 gol in due ma anche altri giocatori esprimono buona qualità del resto non si è per caso al vertice del girone e non si rende difficile la strada del Arezzo così tanto per fare il 3-4-1-2 sembra essere il modulo scelto dal tecnico versiliese un tempo allievo di indiani quella di domenica sarà la sfida numero 14 il comunale alla Pianese ha vinto solo una volta per il resto lo score dice tre successi dell'Arezzo e due pareggi il primo match risale al 2010 e gli amiatini si imposero con un gol dell'esperto Porricelli l'Arezzo al comunale ha vinto per 4-1 nell'ottobre del 2011 Martina e Seraso firmarono due doppiette Vittoria Netta anche l'anno dopo con reti di Idromela Martina e Seliborio Zuppardo poi bisogna andare al 2021 con il 2-0 firmato da Marchi e Foggia due ex nella Pianese Capitan Settembrini è convitto autore di una grande stagione lo scorso anno nelle fila della Pianese spicca la presenza dell'aretinissimo di Ceciliano Grifoni la cui presenza forse in dubbio proprio domenica prossima per dei problemini di carattere fisico che ha accusato in settimana ricordiamo che domenica l'Arezzo ricorderà anche Angelo Drago domani si svolgeranno al Bagnoro le 15 funerali le due donne brutalmente uccise in via Varchi giocando con il lutto al braccio una pagina intera dedicata a Paolo Indiani è stato possibile leggerla oggi sul Gazzetta dello Sport ne viene fuori uno spaccato che mette in primo piano l'allenatore di questo allenatore diversamente giovane ma sempre al passo con i tempi quando dopo una sera con gli allenatori aretini Paolo Indiani ci confessò che il suo cruccio più grande era stato quello che nessuna grande squadra avesse creduto in lui per una primavera non aveva tutti i torti in quel momento Indiani cercava la password per la sua squadra e l'Arezzo ancora non aveva espresso quei valori che dopo la sconfitta di Terra Nova bracciolini sono venuti alla ribalta poi il campionato ha preso una piega ben definita la squadra ha trovato i suoi giusti equilibri e l'obiettivo della decima vittoria personale in campionato si è sposato con l'ambizione di una piazza che in Serie D rappresenta sempre un qualcosa di anomalo oggi Paolo Indiani ha ritrovato anche la sua consacrazione mediatica con lo spazio che gli ha riservato il maggiore quotidiano sportivo italiano la Gazzetta dello Sport in un certo senso lo aveva anticipato anche Gianluca Di Marzio nel suo blog che è seguitissimo dagli addetti ai lavori e sulla Rosa Indiani è andato senza freni ricordando le origini comuni con Spalletti entrambi sono di Certaldo le sfide con Sarri quando era a Foligno aver allenato e vinto con semplici baroni Barzagli quando erano al Rondinella Indiani insegue la sua decima affermazione stagionale e il traguardo ormai è a portata di mano domenica la festa potrebbe essere duplice dalle parti di San Cornelio e magari anche a Napoli a proposito di Certaldo la storia ci ha regalato un altro personaggio illustre e chissà se mai Indiani prima e Spalletti dopo si sono ispirati proprio alle visioni di un certo Giovanni Boccaccio In campo per la penultima giornata anche la Serie C ecco il quadro del Girone B al Brili Peri si giocherà alle 17.30 ancora Rimini, Montevarchi, Alessandria Carrerese, Lucchese, Cesena Vispesaro, Fermana, Pontedera Fiorenzo, La Siena, Gubbio, Torres Imonese, Sandonato Olbia, Reggiana, Virtusentella Recanatese alla vigilia della partita con l'Alessandria in casa Montevarchi ancora si punta a strappare il penultimo posto che potrebbe dire play-out del resto la penalizzazione agli Emiliani ha lasciato questo piccolo spiraglio La punizione inflitta all'Imonese regala ancora una possibilità al Montevarchi impegnato nella penultima partita della stagione in programma domani alle 17.30 sull'Erba, quest'anno poco amica del Brilli Peri I numeri sono impietosi e il Montevarchi si appella a tutto pur di evitare l'ultimo posto il cognome dell'allenatore evoca un'impresa come faceva il suo illustre omonimo Sono stato chiamato alla società e niente, ho risposto sono tanti anni che sono qui e se posso dare una mano ben volentieri perché io ci credo se non non avrei preso questo impegno In questo momento servono le motivazioni forse anche tanta fortuna Ma penso nel calcio serve un po' tutto serve una motivazione serve fortuna serve qualità non c'è una componente che ti può far vincere una partita quindi serve un po' tutto L'Alessandria nell'ultimo turno di campionato ha lanciato brutti segnali per gli Aquilotti L'Alessandria è una squadra che si vuole salvare abbiamo visto che ha delle buone individualità e sicuramente sarà una gara difficilissima Coppi fa un appello ai tifosi Stare vicino ai ragazzi perché i ragazzi ci credano hanno dato massima disponibilità e quindi gli chiedo di fare l'ultimo sforzo so che ne hanno fatti tanti so che sono delusi però fate un ultimo sforzo per questi ragazzi e poi alla fine tiriamo le conclusioni E parleremo dell'avversario dei Romani dei Rosso-Blu una nobile fra virgolette decaduta ovvero l'Alessandria che vanta anche molti campionati in Serie A non è un caso che abbia dato i Natali calcistici a Gianni Rivera e anche a Mario Fara due grandi giocatori è retrocessa la scorsa stagione dalla Serie B dopo aver dominato l'anno prima in Serie C quest'anno ha trovato molteplici difficoltà ha cambiato tre allenatori un po' lo stesso percorso del Montevarchi davanti il giocatore più pericoloso è Sascha Cori ex giocatore anche dell'Arezzo tra gli ex si segnala la presenza di Marco Carrara che proprio ad Alessandria ha vinto un campionato ai tempi della gestione di Melani e parliamo adesso di automobilismo l'autodromo dell'Umbria di Maggiore ha compiuto 50 anni e festeggia con la Pasqua del pilota questa sua lunga attività era tutto nato dalla passione per lo sport e dei motori da un gruppo di amici che insieme decisero di fondare l'autodromo dell'Umbria a Magione la loro terra d'origine da quel giorno sono passati 50 anni e quest'anno così per celebrare quella scelta che poi è divenuta vera e propria meta per appassionati e non sul territorio umbro ma anche nazionale è stata organizzata la rievocazione della Pasqua del pilota la gara che il 23 aprile 1973 inaugurò proprio la struttura di Magione è stata una delle gare più importanti d'Italia consideri che la Pasqua del pilota fatta in un piccolo autodromo di una piccola regione in realtà nel tempo era diventato un punto di riferimento per molti piloti talmente tanto importante che la federazione sportiva e gli altri autodromi non consentivano l'iscrizione nella medesima data di altre gare automobilistiche nel corso degli anni quindi l'autodromo si è distinto per essere la sede di gran parte delle più importanti competizioni che hanno animato le stagioni sportive nazionali e che ha visto come protagonisti diversi driver famosi come Elio De Angelis Riccardo Patrese e Vicky Piria a ricordare questi anni d'oro durante una conferenza stampa sono state diverse personalità tra cui anche il presidente dell'automobile club di Perugia Ruggero Campi e l'amministratore delegato dell'autodromo Roberto Papini le celebrazioni comunque continueranno anche dopo questo weekend con eventi per auto moto e con manifestazioni non motoristiche e ricordiamo anche i successi di Antonio Tamburini su questa pista e chiudiamo con un flash legato alla pallavulo perché iniziano i playoff per il club Rezzo l'avversario per i bottoni e di tutto rispetto infatti il camaiore è una delle formazioni del panorama volistico toscano più forti e da sempre le squadre della costa hanno un qualcosa in più rispetto alle formazioni dell'interno per scortecce e compagni un test di primo livello che fungerà anche da verifica per la crescita fatta registrare e dai ragazzi che in questa stagione hanno dato ottimi risultati intanto si registra la sconfitta degli under 19 nella finale di andata contro i lupi di Santa Croce per 3 a 0 in settimana ci sarà il ritorno e ritorno anche martedì prossimo per la prima squadra contro il camaiore è tutto per lo sport grazie per essere stati con noi appuntamento a domani grazie per la visione